Chi è Guya Kali, la Kali segreta? Kali è adorata in moltissime forme. Nel tantra possiamo trovare le dieci o le dodici Mahavidya. Diffusa è l'adorazione di Mahakali, Dakshinakalika, Smashankali ed altre, tra cui Guya Kali, la forma segreta o nascosta della Dea. Viene descritta nei dettagli nella Mahakala Sammita, composta nel X secolo, in una sezione a lei dedicata. Secondo questo testo, Mahakali è la Dea primaria dell'intero sistema tantrico basato sulle pratiche Vamacara. Nella Mahakala Sammita vengono rivelate le varie forme di adorazione, i mantra e gli antra relativi a Guya Kali. L'adorazione della Dea non è per tutti, ed è dedicata solo a praticanti avanzati, a quei Sadaka che dedicano una vita allo scambio reciproco di condizioni con la Dea e che sanno come proteggersi dai pericoli incontrati durante questi potenti rituali. Guya Kali è la forma della Dea al di là della percezione umana ed è segreta. Gupta